Allora ragazzi, buongiorno, good morning, buona domenica Oggi è il grande giorno, il grande big match Il derby del sud, ormai così chiamato da anni per il centro-sud Perché poi Roma ovviamente è a centro, noi siamo del sud Quindi centro-sud, vabbè, derby del sud E derby del sole soprattutto, no del sud perché ovviamente è centro la Roma E per tanti anni è stato un bel derby Perché è stato un derby abbastanza, come si può dire, abbastanza amichevole Diciamo, poi da quando purtroppo è morto un tifoso del Napoli, Ciro Che, ahimè, ancora oggi, un affitto al cuore Ci sono stati scontri da tifosi del Napoli e della Roma E si è rotto questa, diciamo, non dico amichevole tra tanti tifoserie Però comunque era più stabile, diciamo Detto questo mi spiace molto, ovviamente, sempre il nostro cuore rimarrà un nostro tifoso E però a me è sempre piaciuto l'idea che un giorno ci fosse stato un bel gemellato E' sempre un Napoli d'uomo, però purtroppo è andata così Detto questo, parliamo della partita Partita difficilissima Partita dura, molto dura Partita difficile e che sinceramente ci vorrà veramente un'impresa Perché tutti quanti mi dicono Ma la Roma l'hai vista in questi ultimi periodi? Sì, l'ho vista E continuo a pensare che è una grande trappola Continuo a pensare che ci vuole un'impresa per batterli Perché, vi spiego un po' in breve Allora, secondo me la Roma Allora, a parte che sta molto in cattività Ha perso due partite di fila Prendendo sei gol in Europa Che non è che ti vuoi rifare assolutamente Prendendo sei gol Poi ha perso con la Juve Dove la Juve è lì sinceramente Per me ha rubacchiato Perché il nostro caro amico arbitro orsato Secondo me ha fatto più danni della grandine Quindi secondo me è rubato E quindi la Roma sta molto in cattività Poi sta anche in casa Con lo stadio pieno Spalletti Che è rimasto in brutti rapporti Con i tifosi da Roma E con la Roma proprio E per colpa del fatto che All'epoca non faceva giocare Spalletti Hanno fatto anche Anche i telefilmi che ho visto Speravo di morire prima E speriamo che Napoli non muore prima Anzi, come dice Spalletti Ditto nella conferenza stampa Speriamo di morire dopo Quindi speriamo di morire dopo E ripeto, secondo me Allora, lì secondo me hanno entrambi La verità Io dico sempre che la verità sta nel mezzo Non dico mai sta da una parte Quindi non ha ragione Spalletti Ma ne manco Totti Che Totti pure Piamolo di Dio Era il capitano Era il pupone Diciamo che a Roma Era come un santo Però ragazzi Aveva comunque 40 anni Pretendeva di giocare tante partite E Spalletti dice Dalle natura scelgo io Quindi la verità sta nel mezzo Quindi non è colpa Tutta di Spalletti Non tutta di Totti Ma ne manco tutta di Spalletti Guardiamoci chiaro Sui card ha avuto ragione Poi alla fine Spalletti Guardate i card che fine ha fatto E su Totti Anche per l'età che aveva Quindi ragazzi Io non mi metto mai da una parte Avrà un bellissimo Prima Spalletti Ad accoglierlo Mi immagino i fischi I cori Sarà veramente Un stadio difficile Da affrontare Poi ripeto Molte Spalletti Anche per noi Tifosi del Napoli Per noi Diciamo Napoli È sempre un stadio Molto difficile Da affrontare Perché è molto molto caldo E quindi Sarà molto difficile Per me ripeto Se pareggiamo Non è male Non ci spuso Perché secondo me È buono Il buono pareggiare È che la Roma Secondo me è forte Per quanto gli dicono Che la Roma è scarsa Per me non è scarsa Assolutamente È forte È uno stadio difficile È perché sinceramente Un pareggio fuori casa In casa della Roma Con quel clima Con quello stadio ostico E una squadra forte come Roma Un pareggio Facendo le corna Io sinceramente Lo porterei a casa Quindi Non ci spudere sopra Lo so Non sono tre punti Uno ci prova a vincere Ragazzi però Non è che le possiamo vincere Da mo fine E fine anno Tutti quanti Saremo il Saremo il Bayern Monaco Quindi E non è cosa La Roma Ripeto Sarà molto incattivita Il Napoli è forte Per l'amor di Dio Abbiamo sui men Abbiamo paritano Insigne Mertens Siamo al completo Rachmani Il culba libero Ragazzi Tosta E loro purtroppo E mi hanno recuperato Zaniolo Io lo speravo Che Zaniolo Recuperasse assolutamente Dall'infortunio Ma farò una partita La prossima E mi si è recuperato Contro di noi Perché la fortuna nostra È sempre tantissima E Mourinho ripeto Secondo me Un allenatore preparato È molto furbo Quindi C'erano grandi trappole Ripeto Come ha detto Anche Spallè Sua partita è difficile Ma secondo me Per vincere Ci vuole un'impresa Per pareggiare Devi fare una partita Quasi perfetta Per vincerla Devi fare un'impresa Secondo me Invece per pareggiarla Basta che fai una partita Perfetta Provando a portare il pareggio Poi Se vinci A perdere Facendo le corna Se la perdi Vuol dire che hai giocato male E se la perdi Vuol dire che la Roma Merita tu di vincere E che tu hai giocato male Quindi ragazzi Io dico sempre Quello che uno sim Accoglie Quindi Speriamo bene Io Forza Napoli sempre Forza Spalletti E Spalletti Speriamo che da X Anche il buccia del dente avvelenato Perché a volte è una cosa buona E Ci vediamo nel prossimo video Ripeto Ieri il Milan ha vinto col Bologna Se vinciamo Andiamo sempre a più due Se pareggiamo Andiamo pari punti col Milan Se perdiamo Ragazzi Andiamo a meno uno Che dobbiamo fare Io ripeto Il campionato è lungo Mancano tantissime partite Quando sento parlare Veramente di chi dice Io esulto quando vinciamo Però non descrivo Salutate la capolista Perché stiamo Fino ottobre Mancano 450 partite Solo meno due il Milan Stanno meno 50 Quindi quando sento dire Salute la cosa Ti dà la sprangata I suoi denti Non si A parte che porta pure male Ai tempi di Sarri Basta Basta Tanti tifosi del Napoli Lo dicono Ti vediamo nel prossimo video Ragazzi Forza Napoli Siamo per forza Spalletti E che 10 avanti buona Già lo so che sarà Una giornata di impregazione Alle 18 Ovviamente si gioca Allo Stato Olimpico Già lo so che sarà Una giornata di impregazione Di bestie Mediasterno Come siamo a Napoli Perché già lo so Perché Napoli Crea tante occasioni Ma segna meno Di quello che crea Il Napoli Quindi spesso faccio 500 di rapporto Per fare un gol È sempre stato questo problema E quando si chiudono le squadre Non riusciamo a segnare Abbiamo sempre un soldo Problema da anni Può cambiare l'allenatore E i giocatori Ma è sempre quello Il problema Ci vediamo Io purtroppo Non potrò fare la live reaction Oggi Perché non sono sola Perché ho Mio fratello Tutto quanto Quindi troppa gente Quando sono solo E mio padre La posso fare Quindi Napoli Bologna Sempre settimana prossima La posso fare Tutte le volte Che Napoli gioca Alle 21 di sera Le posso fare Che si Europa League Campionato Serie A E tutto quanto Invece quando gioca Ma le 18 Quasi mai Perché non sono mai sola Sì sempre mio fratello E tutto quanto Quindi alle 18 La posso mai fare Sarebbe stata Una live reaction E vabbè Pazienza Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Forza Napoli Sempre fuori da spaletti